Antonella, Elia e Patrick non riescono a trovare l'equilibrio. Adesso per colpa delle stoviglie da lavare se ne dicono di tutti i colori. Spuntano pure alcuni spintoni. È caos. Ah, e non spingere così, dice Antonella a Patrick provocandolo perché non vuole lavare i piatti. Lui replica, ma non ti ho spinto. Ah, adesso stai recitando, va bene, basta. Vai a ca' puntini puntini aree. Io non sono un attore, la pagliaccia la fai da qualche altro. Buffona, falsa. Sei uno sfaticato, dice la Elia. Mi hai dato uno spintone, gran pezzo di me, puntini puntini a. Allora arriva l'ennesima replica di Jeffino, sei una giocatrice falsa e calcolatrice. Ha ragione Barbara Alberti, non ti ho spinto. Serena, la compagnia di pago, si schiera dalla parte di Antonella e chiede alla GF di vedere l'amo viola. E voi? A chi date ragione? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto. Grazie. Grazie. Grazie.